Si stringono le mani, si fanno forza fra loro, ma quanto possono essere forti le donne? Forse non lo sanno nemmeno finché non sono costrette a doverlo tirare fuori il coraggio. Il coraggio di reagire alla violenza è il tema del convegno che si è svolto questa mattina organizzato dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Foggia, un incontro che ha visto la presenza di tre donne che portano i segni della violenza subita e ci fanno i conti ogni giorno. Giovanna Ferrari è la madre di Giulia Galiotto, uccisa dal marito nel 2009. Maria Teresa Dorsi, mamma di Carmela Morlino, la foggiana uccisa dal marito a Trento davanti ai loro bambini. Jessica Notaro, la ventottenne di Rimini sfregiata con l'acido dall'ex compagno. E dai, una volta che si decide di continuare a vivere bisogna mettercela tutta. Ha deciso di mostrare le sue cicatrici come monito per le altre donne per avere il coraggio di denunciare? Sì, assolutamente. Infatti per scelta quando vengo a questo tipo di incontri non mi trucco perché è giusto che le cicatrici si vedano così da poter dare più senso a quello che poi dico alle persone. Dobbiamo imparare a capire chi abbiamo davanti e ricordarci che chi è in grado di infliggerci una violenza psicologica è la stessa persona che poi in futuro potrà metterci le mani addosso, violentarci fisicamente e arrivare al punto di commettere perfino un omicidio. Questo non è amore. Se era amore non faceva così male. L'assessore Erminia Roberto ha voluto poi ricordare la presenza sul territorio di Foggia del CAV, il centro antiviolenza nato nel 2011 che ha sede in via Matteotti. L'ambito territoriale di Foggia all'interno della struttura opera con azioni tese a favorire il sostegno ad ogni forma di violenza. Un numero verde attivo 24 ore su 24 intercetta tutte le segnalazioni di donne che decidono di denunciare. Denunciare ovvero il primo passo per uscire dall'isolamento, quella strana concezione per cui la violenza è colpa di chi la subisce e che troppo spesso impedisce di portare fuori dalle mura di casa quello che viene percepito come motivo di vergogna. Le donne vengono poi seguite e messe in sicurezza. Molto spesso si tratta di donne che non lavorano e viene assicurato loro un sostegno psicologico, morale e anche economico. La violenza è insidiosa, bisogna saperne cogliere i segnali anche flebili. Da qui l'invito affinché parlarne sia da monito anche ad altre donne e mamme perché educhino i propri figli maschi al rispetto della parità di genere, il rispetto per una donna a partire dalle piccole cose.